Salve Flavio, siamo alla fine della passeggiata della fioritura, quindi come hai valutato questa giornata? È stata una giornata bellissima, era tanto tempo che volevo venire a vedere la fioritura e questa è stata l'occasione per realizzarlo finalmente. Da dove vieni? Io abito in provincia di Belluno, quindi dal Veneto, e sono venuto apposta per la passeggiata e con l'occasione rimango tutto a fine settimana. Guardando il cappellino vedo che sei una local guide. Vuoi spiegare quali sono le motivazioni per cui una local guide dovrebbe, secondo te, venire qui in zona? Qual è il motivo principale che potrebbe spingere una persona a raggiungerci? Beh, innanzitutto per la bellezza dei luoghi e per conoscere delle terre comunque molto belle e tanto più che anche visto gli eventi del terremoto di qualche anno fa diventa anche un modo per aiutare la popolazione locale per riprendere l'economia e riprendere la vita normale. E quindi, diciamo, già questi per me sono dei motivi molto validi. Dopodiché, se uno è anche una local guide, ha degli stimoli ulteriori per conoscere posti nuovi, vedere nuovi posti e quindi contribuire al programma con altre idee e altri aiuti. Un'ultima domanda. Avendo passato qualche ora qui in questa vallata, qui nel Pian Grande, hai dei consigli su quello che dovrebbe essere il target ideale? Nel senso, la passeggiata è adatta a tutti o ci sono requisiti minimi da rispettare? Beh, la passeggiata è sicuramente adatta a tutti perché il territorio è talmente vasto e ci sono talmente tante possibilità che riesce a conciliare dalle famiglie con i bambini piccoli e fare un piccolo percorso che comunque è già molto gratificante sia a chi ha voglia di impegnarsi in percorsi più lunghi e comunque non particolarmente faticosi visto appunto il territorio prevalentemente pianeggianti o con leggeri dislivelli per cui è sicuramente adatto a qualsiasi esigenza e non solo per chi vuole camminare ma anche per chi vuole andare in bici piuttosto che, ho visto, ci sono dei maneggi che fanno fare le passeggiate a cavallo, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Grazie a te.